Buongiorno a tutti e a tutte. Oggi parliamo di numeri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. E ora proviamo a usare i numeri. Qual è il tuo numero di telefono? Il mio numero di telefono è 991 384 567. Qual è il numero di telefono del CPA? Il numero di telefono del CPA è 0432 500 634. Dove abiti in via Roma al numero 6?